e Leonardo tocca un po' il nastro, non so, in modo sospetto, io dagli occhialini filtra della luce, si vede perfettamente qua, poi Leonardo si mette a posto la fascia, continua a sistemarsi la venda, no? Ecco, parte come Manco Forrest Gump, mentre gli altri naturalmente ecco, praticamente prevede in modo sospetto la posizione degli ostacoli perché mette le mani avanti. Grazie a tutti.